Mi porterai con te al Prater questa sera? Mi fanno entrare i bambini. Allora dirò tutto alla mamma. No! Sì, è mia sorella. La disegni nuda. Tu hai mai posato per il cattore? L'hai invitata tu. Sta cercando Clint. Vorresti che Valli posasse anche per te? Potresti guardare me, per favore? Potresti tirare un po' sulla sottocomba? E ho scelto. Questa è vera pornografia. Io sono un artista. E ho la responsabilità di difendere la libertà dell'arte. Mi piacerebbe fare la modella per lei. Rimani così. Mia nonna diceva che una donna dovrebbe risparmiarsi per l'uomo giusto. Avrei voluto risparmiarmi per te. Come se stessi stringendo qualcuno che sta per lasciare. Egon! Valli, ho bisogno di te per il dipinto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.